Farina di grano saraceno, farina bianca, tanto burro e formaggio, rigorosamente valtellina casera DOP, una spolverata di formaggio grana, verze e patate, uno spicchio d'aglio, un pizzico di pepe e pizzocchi originali sono serviti. Ma c'è un ingrediente segreto per gustarli al meglio, la patria del pizzocchero, Teglio. Torna la rassegna gastronomica a sapori d'autunno. Per tutti i weekend di settembre al centro del menù dei ristoratori Tillini c'è proprio il pizzocchero d'oro nella sua ricetta tradizionale custodita dall'Accademia del pizzocchero. Nei primi tre weekend di ottobre i protagonisti dei piatti sono i funghi. A seguire, negli ultimi due weekend di ottobre e nel primo weekend di novembre, è la volta della cacciagione. L'esperienza culinaria prosegue e si chiude a fine novembre con i weekend dei sapori autunnali, gli ingredienti tipici di questa stagione interpretati dagli chef di Teglio, il tutto sempre accompagnato dal buon vino valtellinese. Dopo la brusca interruzione della rassegna nel 2020 per l'emergenza pandemia, l'imperativo è ritrovare le piacevoli abitudini in sicurezza e le richieste di informazioni già aggiungono quotidianamente ai ristoratori da tutta la Lombardia, ma anche dalle regioni limitrofe e dalla Svizzera. Aspettiamo i nostri affezionati clienti che già ci conoscono e quanti vorranno partecipare per la prima volta alla nostra rassegna. È l'invito di Fabio Valli, coordinatore dell'iniziativa, che prosegue. Nei nostri ristoranti la sicurezza è garantita, negli spazi esterni come all'interno. Contiamo sulla collaborazione di tutti nell'adozione delle misure di sicurezza. Con il meteo favorevole si potrà ancora pranzare e cenare in terrazze Deor per qualche settimana, avendo più posti disponibili. Mentre al chiuso avremo meno spazio a disposizione, per questo la prenotazione è sempre consigliata, soprattutto la domenica pranzo. Naturalmente distanziamento e green pass per i tavoli all'interno sono richiesti. Date, menu e ristoranti aderenti con i relativi recapiti sono elencati sul sito internet www.tegliosapori.info e per informazioni ci si può rivolgere all'ufficio turistico di Teglio al numero 0342 78 2000. Grazie a tutti.